Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Sono Aici, il mio nome italiano è Angelo, sono tutto di Scuola e-commerce. Oggi parliamo di ricerca prodotto per Amazon VFBA nel 2021 con Helion Temp. Andiamo a vedere insieme alcuni aspetti di ricerca prodotto da fare nel 2021. Andiamo ad impostare i diversi criteri di ricerca oltre a consigliarvi al meglio quali sono le cose da stare attento e partiamo subito. Ecco a voi ricerca prodotto completa con Helion Temp. Helion Tem è uno strumento di ricerca prodotto per Amazon. In questo video gli argomenti che trattiamo sono quali sono criteri da usare nella scelta di prodotto per il 2021. Che strumento è l'EVS Accentus e come si fa ricerca di parole chiave. Infine come differenziare il prodotto attraverso analisi di recensioni. Prima di fare la ricerca è bene da tenere in mente alcuni punti fondamentali per il 2021 quando si va a impostare la ricerca. Ad esempio il prodotto che prezzo di vendita deve avere. Quindi noi consigliamo di puntare verso alto. Dopo facciamo vedere il perché. Discorso della possibilità di differenziazione del prodotto in stia e design. Sceglie quindi dei prodotti che possano dare valore aggiunto soprattutto sulla differenziazione. Quindi il cliente lo percepisce come un valore aggiunto molto importante la differenziazione in stile e design. Ad esempio se consideriamo dei prodotti generici funzionali quale asciugamano e bagno che la differenziazione in quel caso lì è molto più difficile e valore aggiunto attraverso differenziazione non è così elevata la percezione della persona. E se sei un nuovo sale e stai entrando in una nicchia molto competitiva potrebbe essere difficile la gestione e quindi consiglio di verificare dove le categorie sono meno competitivi dove il numero di recensioni non è così elevata per quei prodotti. Vediamo insieme cosa significa prezzo di vendita puntare verso alto. In questo esempio ho considerato due prodotti della stessa categoria. Nella figura a sinistra trovate un prodotto che ha prezzo di vendita di 50 euro. Nella figura a destra trovate un prodotto che ha prezzo di vendita di 25 euro. Il prezzo annetto di iva di entrambi i prodotti sono rispettivamente 40,98 euro e 20,49 euro. Questi prodotti qua provengono dalla cina quindi dobbiamo considerare spedizione internazionale. In questo caso ho considerato per ipotesi 3 euro di costo di spedizione internazionale. Questo non include i diritti doganari quindi dazi doganari. Perché ho considerato spedizione internazionale come un costo fisso? Perché non valia e fissa in base a peso e volume del prodotto. Questo infatti si applica pure per costi FBA Amazon. Le dimissioni e peso del prodotto ci costa per spedizione Amazon 4,59 euro quindi ci rimane sottrando i costi fissi ci rimane nel caso della figura a sinistra 33,39 euro e nel caso della figura a destra 12,90 euro. I costi fissi incidono sul prodotto sinistra di 18,52 per cento e nel prodotto di destra di 37,04 per cento. Quindi in sostanza vedete quanto incide i costi fissi nel caso di prezzo di vendita più alto che inferiore rispetto nel caso di prezzo di vendita basso. Discorso delle possibilità di differenziazione in stile e design. Quando andiamo a personalizzare il prodotto cerchiamo di fare leva su differenziazione rispetto al competito per far riconoscere al nostro cliente un valore aggiunto. In questo caso vi ho riportato un esempio di due prodotti sembra della stessa categoria crattugia. Nel caso della figura a destra vedete che un classico crattugia composto da diversi pannelli è bello presentato però è comunque un classico crattugia. Nella figura a sinistra vedete che il prodotto è altamente personalizzato in più hanno messo un guanto che proteggetti nel caso di operazioni incitentate e quindi magari mentre fai il lavoro ti protegge evitandoti che ti fai mare. Un'ottima scelta di differenziazione e noi dobbiamo scegliere il prodotto che hanno possibilità di differenziarsi attraverso stile e design. In questo caso parliamo di sicurezza parliamo di non farsi mare quindi di far vedere al cliente che noi ci siamo e pensiamo alla loro sicurezza nel operato. Quando parliamo di competizione non elevata andiamo a vedere i discorsi delle recensioni a vendite ad esempio in questo caso notiamo che le vendite mensili sono più alto rispetto al numero di recensioni che potrebbe essere un buon rapporto per scegliere questo tipo di prodotto e provare. Ovviamente quando si fa queste considerazioni bisogna anche considerare alcuni dati in più per poter poi fare un'analisi più sviluppata di cosa è la competizione in quel settore lì. Ok impostiamo la nostra ricerca fissiamo i parametri ad esempio prezzo sopra 30 euro 20 dimensioni più di 100 l'ecensione meno di 300 dimensione contenuta e vediamo insieme che cosa esce. Ecco che abbiamo impostato la ricerca con Helion Temp abbiamo selezionato 11 di categoria abbiamo messo il prezzo di patenza 30 euro l'ecensione 300 abbiamo selezionato dimissione per FBA Amazon abbiamo messo che le vendite mensili python da 100 pezzi in su ecco gli risultati tra questi abbiamo fatto delle considerazioni particolari e siamo arrivati a due prodotti e in questo caso si tratta di confezione rosa per legalo è un prodotto particolare che le persone considerando in prima battuta le persone potrebbero spendere un po' di più per l'acquisto perché è un simbolo diciamo e soprattutto le persone vogliono qualcosa di differenziante quindi in questo caso è un prodotto che potrebbe avere senso svilupparlo facciamo ricerca di parole chiave con strumento celebro in sostanza vediamo che le parole chiave associato a questo async ci sono diversi e quello che ci ha catturato e corrisponde al prodotto è rosa stabilizzata o rose stabilizzate apriamo la ricerca con la parola chiave rosa stabilizzata vediamo che appaiono risultati di tutti i generi e in questo caso qua sono differenzianti tra di loro quindi è una categoria che ci sono tanti prodotti differenzianti e soprattutto i design e stile può differenziare veramente tanto e anche in termini di prezzi sono diversi potete vedere ad esempio che ci sono prodotti da 29,98 e ci sono prodotti da 37 euro e così via dicendo anche poi ci sono prodotti 44,90 l'altro prodotto che abbiamo selezionato è questo come potete vedere sono bicchieri a rame moscovo mule 7D4 in questo caso qua utilizziamo il celebro per vedere la parola chiave associata a questo async e dopo vali ricerca vediamo che ad esempio sono bicchieri muscovo mule 7D4 che corrisponde alla nostra ricerca vedendo in prima battuta questa categoria mi pare di dire che i prodotti si somigliano quindi è molto difficile personalizzare differenziarsi in stile in design e quindi è una categoria un po difficile da poter promuovere prodotti altamente differenzianti i prezzi ovviamente in questo caso sono interessanti ci sono diverse fasce quindi anche lì possiamo considerare di poter proporre qualcosa di premium in aggiunta in maniera che anche per i prezzi possiamo scegliere di posizionarsi meglio ovviamente discorso di tutto ciò legato sempre alla vendita di un prodotto e capire se i clienti sono soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato o meno quindi anche lì cerchiamo di capire attraverso valutazione di un prodotto se le cose sono andate bene o se c'è margine di miglioria ad esempio vedi qua dice ma inizia in tutti i sensi vedi non riporta informazione di che materiali sono fatte e quindi ad esempio questo potrebbe essere quindi fornire dei certificati in cui si dice qua il prodotto è stato certificato non ci sono problemi dare certe garanzie ai clienti potrebbe già diventare un prodotto che cattura l'occhio nel caso di rosa stabilizzata vediamo un attimo le accensioni possiamo vediamo un attimo ecco ad esempio qua dice molti graffi e scaffiture su Xbox Allora e poi ci sono delle scritte che non li vanno bene tipo a friend is loving company at all time quindi magari non mettere le scritte magari oppure mettere dei adesivi che possono loro attaccare su confezione se voglio o non voglio e evitare poi i graffi ad esempio quindi proteggendo con una pellicola che potrebbe essere utile ecco sono queste le considerazioni che dobbiamo fare e i ragionamenti che dobbiamo fare e per questo video abbiamo parlato di quali sono le cose da tenere in considerazione per la liceca nel 2021 con Helion 10 abbiamo visto lo strumento che serve per trovare la parola chiave e per vedere la categoria e da lì considerare alcuni parametri di differenziazione ovviamente ci vanno dietro una serie di lavori che ad esempio per analizzare la categoria per capire se è una categoria profittevole e quant'altro e infine abbiamo guardato dalle lecensioni dei prodotti quali sono i punti che potrebbero essere applicate per una differenziazione e soprattutto poi una considerazione del settore e la competizione è un altro elemento che bisogna tenere in considerazione in quel caso lì dobbiamo analizzare ad esempio in la poto il numero di vendite e lecensioni come sono in questo caso qua ad esempio quello delle rose noi possiamo vedere che le lecensioni sono 137 le vendite vediamo subito le vendite sono 601 ad esempio e quindi le vendite superano le lecensioni è un prodotto che si può considerare poi nel caso di picchieri vediamo subito sono 66 le censioni e vediamo quanti sono le vendite 167 anche in questo caso interessante potremmo anche considerare questo discorso ovviamente bisogna analizzare diversi prodotti con queste impostazioni e dopo tranne conclusione per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale